Cercando di rientrare su di lui Facci, sta cercando di rientrare, arriva anche Mayer Cameron Mayer, ma attenzione perché in quarta posizione c'è Anderson alla sua ruota Belletti, i due velocisti puri di questo gruppetto, Anderson e Belletti Ancora 30 metri di vantaggio per Lewis, quando ne mancano 400 di metri 400 metri alla conclusione, Lewis con la terza posizione, Anderson e poi Belletti Parte Belletti Ecco lo scatto di Belletti che prova ad anticipare Anderson che si muove subito dopo Belletti cerca la rimonta su Craig Lewis Belletti può essere la sua grande giornata Si arriva in pratica a casa sua Marco Belletti e va a cogliere la vittoria sicuramente più bella Il giorno che aveva sognato da sempre una vittoria alla Giro d'Italia E questa è una vittoria davvero particolare davanti alla sua gente Manuel Belletti Davanti a Anderson è un successo davvero splendido, il sogno di una vita che si realizza al Giro d'Italia Di più Manuel Belletti, non poteva chiedere a questa tappa Abita qui, guardate la gioia, l'emozione, la soddisfazione di Manuel Belletti Come hai detto tu, secondo me il giorno che hanno presentato il Giro d'Italia Aveva come sogno vincere questa tappa e ci è riuscito, è stato fantastico Un sogno si può festeggiare anche con delle lacrime Ed è quello che sta trattenendo, stentomando il...